Chiaravalle Centrale, due auto danneggiate a causa di una buca. Questa mattina, poco dopo le 9.30, a causa di una buca, due auto hanno subito dei danneggiamenti. I due automobilisti stavano percorrendo la strada comunale di Via Luca, quando uno dopo l'altro hanno preso in pieno una buca che ha causato dei danni agli pneumatici. Hanno atteso per un paio di ore l'intervento delle forze dell'ordine. Sembra che la polizia municipale fosse impegnata e sono quindi poi intervenuti i carabinieri della stazione di Chiaravalle. Solo intorno a mezzogiorno è stato possibile far rimuovere le auto dal soccorso stradale di Maiolo e Figlio. La situazione delle strade dissestate è stata più volte fatta presente all'amministrazione comunale, che però lamenta scarsa disponibilità economica per farvi fronte. Bisogna far presente che se i due automobilisti decideranno di chiedere il risarcimento del danno al proprietario della strada, che in questo caso è il comune, e se il risarcimento venisse accordato, a pagarne le spese sarebbero tutti i contribuenti, che sono quindi costretti a viaggiare su strade dissestate e a vedere i loro soldi utilizzati per risarcimento, che sarebbero evitabili se le strade fossero adeguatamente manutenute. Per Teleionio, Maria Caterina Sanzo.